Sto maresciallo dei carabinieri entra in un negozio di elettrodomestici perché vuole comprare un televisore per sua moglie quindi arriva in divisa in questo negozio di elettrodomestici, chiama il commesso chiedo scusa signore, mi dica maresciallo, vorrei acquistare quel televisore lì, quello lì che sta su quell'angoletto eh no guardi maresciallo mi dispiace ma noi in questo esercizio non vendiamo nulla ai carabinieri oh per bacco ma che modi sono questi, arrivederci me ne vado, insomma se ne torna a casa però lui sto televisore lo vuole proprio, glielo vuole proprio comprare alla moglie quindi si inventano stratagemma per non farsi riconosce che è un carabiniere, se traveste da donna ritorna in questo esercizio commerciale, chiama il commesso, chiedo scusa signore, mi dica vorrei acquistare quel televisore, quello lì, quello che sta in quell'angoletto eh no guardi mi dispiace ma noi qui non vendiamo nulla ai carabinieri oh per bacco ma come ha fatto a capire che sono un carabiniere nonostante il mio travestimento eh guardi è stato molto semplice, quello non è un televisore, forno a microonde eh guardi è un video